Il 16 giugno l'Aquila vivrà la sua prima notte bianca dello sport, un evento pensato dall'assessore allo sport Alessandro Piccinini che ha ricevuto anche il plauso del sindaco per regalare alla città dell'Aquila una grande occasione per stare insieme, per divertirsi e avvicinarsi allo sport grazie alle tante associazioni che coordinate dall'SD, Vecchie Fiamme e Old Rugby daranno vita ad uno spettacolo di aggregazione unico nel suo genere, centinaia di associazioni sportive che organizzeranno attività dimostrative delle proprie specialità, portando bambini, giovani e genitori ad avvicinarsi al mondo dello sport e a ritrovarsi in centro storico. Sì, diciamo che è il numero zero questo, una sorta di prova generale della notte bianca perché ancora una volta purtroppo abbiamo incontrato problemi con i piani di sicurezza per quanto riguarda ancora la situazione dei cantieri in centro, però è una manifestazione che abbiamo pensato sin dall'inizio e abbiamo realizzato grazie all'apporto di tutto il mondo dell'associazionismo sportivo. Sarà una festa proprio della promozione dello sport praticato in concomitanza con l'inizio dell'apertura dell'ATP Challenge di tennis e per cui sarà tutta una zona della città che vivrà un momento importantissimo di sport, di musica e di divertimento e intrattenimento in generale. Con l'occasione abbiamo anche organizzato un concerto di Massimo Priviero che è uno dei cantanti più raffinati italiani e vanta collaborazioni importantissime con Massimo Bubbola, con Mario Gazzic ed è insomma un esponente di un certo tipo di musica rock da ormai circa 30 anni, per cui sarà sicuramente un evento importante per la città. Ripeto, siamo partiti un po' in via sperimentale, quest'altro anno sarà una manifestazione su cui vorremmo puntare molto. Dalle 17 a luna l'Aquila si trasformerà in una grande palestra a cielo aperto. L'evento sarà arricchito dal concerto di Massimo Priviero al Parco del Castello alle 22. Anche il CONI ha voluto marchiare la manifestazione che interesserà prevalentemente la zona del castello e le aree limitrofe.